Ciao a tutti, stiamo andando a Riva del Garda, ci sono 15 gradi, quindi sarà una serata sulla spiaggia di fine estate. DJ Seth su un veliero bellissimo, attaccato al porto, sarà un party pazzesco. Una seranina sui Cristian, basta vedere le mani che si alzano su. Vai Cristian! Grazie Alex the Boys. C'è Cristian Marchi. Grazie a tutti, vi sono benvenuti a questi ragazzi. Grazie a tutti.